Oh, buongiorno a tutti e benvenuti. Proviamo a condividere le ultime sensazioni sul nostro mercato, mercato che in alcuni giorni è di accordi e di arrivi come questo, in altri giorni è semplicemente di lavoro. Quindi, come che succede una cosa al giorno, si continua a lavorare. Prima di entrare nel merito di ogni singola voce, di ogni singolo dettaglio, lasciatemi ricordare OneFootball. OneFootball è una grande app, scaricatela, la trovate nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricate l'app di OneFootball, link gratuito, app gratuita, app di OneFootball scaricatissima, fatelo anche voi, è gratuita, l'app di OneFootball vi aspetta nella descrizione di questo video, c'è il link, l'app di OneFootball vi aspetta. Quindi, giorni di lavoro. Io ieri sera, quando è emersa la cosa che sul giocatore del Valencia Musa, c'è anche l'Inter, mi è passata la voglia di seguirlo perché detesto i derby di mercato. Perché se li perdi si genera una depressione poco produttiva, perché comunque sono tanti i giocatori su cui vai, che vagli, che ce ne sono per ogni calcio mercato, per 6-7 giocatori che arrivano ce ne sono 300 vagliati, quindi non è che quella cosa lì cambia la vita, però cambia l'atmosfera, l'umore, la sensibilità dei tifosi e quant'altro e noi avremo bisogno di partire all'inizio della prossima stagione con una sensibilità dei tifosi molto alta, molto forte, perché dobbiamo conquistare punti fin dalla prima giornata, cioè non ci deve essere nessuna depressione da mercato estivo che indebolisca la squadra e che renda poco convinta la squadra perdendo dei punti che poi ti accorge a fine campionato come è accaduto nella stagione 2009-2010, 2012-2013 sarebbero stati determinanti per, quindi questo è importante. Però entriamo nel dettaglio. Allora, Musa, ragazzi io non lo so dove andrà, non lo so dove andrà, chiaramente ci lavora il Milan, ci lavorano tanti club, leggo sulla gazzetta che Ausilio lo guardava ai mondiali in Catara, insomma non l'ha mai dimenticato, certo a ricordargli, lo sono state le voci di mercato di quest'ultimo periodo, quindi ragazzi è così, siamo abbastanza osservati, siamo scarsi, siamo pippe, ma quelli ricchi e bravi ci osservano, quindi va bene così. Io mi sono portato avanti col lavoro e ho chiesto un po', sapete che non ho parlato con Rino Gattuso, ma il Valencia è stato allenato da Rino Gattuso che è cuore rosso-nero, quindi lo staff di Rino Gattuso, le persone che hanno lavorato a Valencia. Musa mi viene descritto come un ventenne serio, alla che sì ma non ancora forte come che sì, cioè a vent'anni deve migliorare, però quella è la tipologia, può giocare in un centrocampo a due come mezzala, non come play. È un giocatore che deve crescere nel riconoscimento degli spazi e nella qualità tecnica per ambire ad essere un che sì, però è un ragazzo con molti margini di miglioramento e in una delle prime 4-5 squadre del campionato italiano ci sta sicuramente. Così mi è stato descritto per caratteristiche, non vi sto dicendo che arriva al Milan, per caratteristiche mi è stato descritto così. Vedremo che cosa succederà ragazzi, appena sento la cosa derby di mercato spero che il Milan ne esca, perché poi comportano sempre delle situazioni emotive che almeno in estate onestamente non ho voglia. Cosa mia personale, non cosa del Milan. Pulisic o Pulisic, ma molti telecronisti l'hanno sempre chiamato Pulisic. C'è lavoro, poi non so dirvi se arriverà o non arriverà, il Corriere della Sera oggi si è sbilanciato sul fatto che arrivi, penso anch'io che alla fine arrivi, ma non subito, ci sarà bisogno di lavoro, quindi dirvi se potrebbe arrivare fra 3, 4, 7, 10 giorni, un mese non lo so, però c'è bisogno di lavorarci un po'. È chiaro che in ogni caso la trattativa prosegue, vedremo come, ci aggiorneremo come. Ieri sera Gianluca Di Marzio ha fatto due nomi, uno che piace al Milan, singolo esterno di fascia del Torino e uno che sarebbe stato proposto al Milan, centrocampista, Dominguez del Bologna. Di Marzio attento, ecco, quindi non vi dico che questi due giocatori arrivano, ma c'è dell'interesse, poi arrivano o non arrivano dipende da 3 milioni di cose, però certamente c'è interesse, ecco, c'è attenzione, quindi non sono, Gianluca Di Marzio non ha fatto due nomi campati per aria. Lo stesso Di Marzio ieri sera diceva che Adama Traore è stato proposto al Milan e anche ad altri club, quindi non solo al Milan, io ieri avevo fatto tutto un panegirico, vedete com'è il mercato, avevo fatto tutto un panegirico, però queste cose le sa solo la gestifute, cioè la società di Mendes, io onestamente non posso verificare alla fonte queste cose. Ho fatto tutto un panegirico, avete visto, è piaciuto il Milan nella trattativa Leao, quindi Jorge Mendes, in realtà è stato proposto anche al Milan, mancherebbe altro, quindi il Milan ha preso in considerazione, ma non solo al Milan. E quando ho sentito il nome Roma mi sono drizzate le antenne perché la Roma è una squadra che ha bisogno di fare parametri zero, bisogno di cedere e di fare parametri zero. A proposito di come la situazione economica influenzia e un po' contamini il mercato, adesso voi mi direte, sì ma perché noi invece abbiamo il bilancio a posto e vendiamo tonali? Noi non siamo stati costretti a vendere tonali, noi non abbiamo stimolato la cessione di tonali, noi non abbiamo forzato la vendita di tonali, non l'abbiamo voluta, ce la siamo trovata e l'abbiamo gestita, avendo capito qual era l'orientamento di base dell'entourage di Sandro e quindi i protagonisti della vicenda, tutti allo stesso livello di coinvolgimento senza fare figli e figliastri, hanno optato per questa decisione molto remunerativa dal punto di vista economico, per tutti. Piccolo particolare, oggi arriva Ruben Loftus-Cic, l'ultimo Ruben che avevamo avuto, ho suggerito qualche amico e collega ieri nella storia rossonera, è stato Buriani, che nel 77-78 è stato decisivo nell'unico derby vinto dal Milan, l'altro al ritorno l'abbiamo pareggiato in casa nostra, l'andata vincemo 3-1 in casa dell'Inter con doppietta di Buriani e l'anno dopo, il 78-79, Ruben Buriani non solo fu tra i protagonisti dello squadetto della Stella, ma indossò per metà campionato la maglia numero 10, la maglia di Rivera. Quindi dal Ruben della Stella al Ruben, è qui la legge della scaramanzia, mi fermo. Ruben della prima Stella, basta. Vedete, arriva Ruben Loftus-Cic e fa dei passi ufficiali, le visite mediche, insomma vedremo i prossimi, non tiratemi dietro una scarpa, ma tecnicamente in questo momento Sandro Tonali è ancora giocatore del Milan, non c'è l'ufficialità del suo passaggio a Newcastle. Però la determinazione di un club nel fare il mercato, nel fare le cose, anche da questi piccoli particolari, non è che aspettiamo la firmetta che renda ufficiale Tonali per far arrivare Loftus-Cic con un'operazione economicamente molto onerosa, facciamo arrivare lo stesso, quindi questo indica una propensione, una determinazione a costruire una squadra che possa provare a darci delle soddisfazioni nella prossima stagione. Ciao a tutti, ci vediamo e ci vediamo più tardi.